Amava la musica e il suo organo, suor Natalia. Era una persona dolce e riservata. La descrivono così i medici del reparto Covid che l'hanno curata e assistita per lunghi 30 giorni senza mai farle mancare l'affetto e la vicinanza. Ma purtroppo non ce l'ha fatta a sconfiggere il Covid. Il suo cuore, nel primo pomeriggio di ieri, ha cessato di battere. La donna di 47 anni era stata ricoverata lo scorso 4 giugno presso il reparto di subintensiva del Covid d'ospital di Agropoli a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Sor Natalia svolgeva la sua professione di fede nel convento di Laurino ed era bravissima a suonare l'organo. Il comune cilentano registrò alla fine del mese di maggio circa una quarantina di contagi che destarono non poca preoccupazione nell'intero comprensorio. Ora la situazione sembra essere rientrata. Restano soltanto due cittadini di Laurino ancora ricoverati presso il Covid Center agropolese. Sul tampone molecolare di Sor Natalia, prelevato dal laboratorio analisi dell'ospedale civile, diretto dal dottor Marcello Ametrano, è stato effettuato il sequenziamento presso l'istituto zooprofilattico di Portici, confermando la variante P1621 colombiana. Sor Natalia, come raccontano dal reparto speciale agropolese, diretto dalla dottoressa Rosa Lampasona, ha lottato con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Nelle ultime settimane era molto depressa e i sanitari le hanno regalato una piccola tastiera per aiutarla a reagire. I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario le sono stati accanto fino all'ultimo respiro. Attualmente sono quattro le persone presenti nel Covid Hospital, due cittadini di Laurino, uno di Ascea e uno originario di Casalvelino.